Il Museo archeologico dell'Antica Capua sorge nel cuore di Santa Maria Capoavetere. L'istituzione del museo nasce dall'esigenza di presentare, secondo i più moderni criteri espositivi, i materiali rimessi in luce nel corso degli scavi effettuati nella seconda metà del 1900 nel territorio dell'antica città di Capua. La torre di Sant'Erasmo, sede del museo, fu eretta in età medievale sul Tempio Capitolino della città romana, poi utilizzata da Longobardi e Normanni come fortezza per divenire ancora residenza dei monarchi svevi, angioini ed aragonesi. Qui nacque Roberto D'Angiò nel 1278, che la trasformò poi in archivio reale e in scuderia reggia. Bonifacio VIII, appena eletto papa, sottoscrisse qui il suo programma politico. Nel 1496 gli aragonesi trasferirono la proprietà della torre alla famiglia gentile di Capua e l'atto segnò il declino della torre stessa. Nel 1700 la torre tornò al demanio reggio e fu abbattuta, mentre il resto del complesso fu usato come alloggio militare, da qui la denominazione di quartiere di cavalleria torre. Nel 1864 fu assegnato al Ministero dell'Agricoltura e usato come istituto di incremento ippico. Le varie sale del museo sono ordinate secondo una scansione cronologico-tematica di sette periodi temi che porta il visitatore a compiere un vero e proprio percorso dalla fase embrionale della città di Capua Antica fino ai fasti dell'età sannitica e romana fino alla decadenza post-romana. Tra le altre opere d'arte c'è la monumentale statua in marmo lunense, splendida copia di età romana del satiro in riposo di Prassitele. È il fiore all'occhiello del museo ed è posto nella sala d'ingresso. Ritrovato nel 2002 in piazza primo ottobre, l'imponente scultura alta un metro e 86 versava in pessime condizioni. Restaurata dal laboratorio del museo archeologico di Napoli, oggi risplende a nuova vita priva solo di un braccio, il braccio destro, rientra tra le repliche di età Adrianeo Antonina ed è ascrivibile alla prima metà del cento dopo Cristo.